15 gennaio 1993 i carabinieri del ross arrestano a palermo nei pressi del motel agit di via della regione siciliana il boss dei vostro torri ina dopo 25 anni di latitanza a dare il segnale agli uomini del comandante ultimo è balduccio di maggio nascosto in un furgone fuori dalla casa di riina il pentito è infatti fra i pochi dopo anni di latitanza in grado di riconoscerlo